L'Aventador Super Veloce nasce sicuramente per essere l'espressione più evoluta di performance tecnica e design in automobili Lamborghini. Potremmo dire che è davvero l'essenza del know-how della nostra azienda che è stata in grado di realizzare il 12 cilindri più veloce e più leggero di sempre. Reactive Engineering significa che quest'auto è stata progettata per reagire immediatamente a tutto ciò che in quel momento come driver, come pilota desideri. È la sintesi estrema di Lamborghini ed è su questo che noi abbiamo costruito questo film. Il concetto di questa macchina è arrivare all'essenza della sportività. Ci siamo messi nei panni di un pilota che deve affrontare una doppia curva e abbiamo analizzato punto per punto quella curva, trasformando ogni suo pensiero nell'azione della macchina e viceversa, ogni azione della macchina in un suo pensiero. Analizzandolo proprio al microscopio, perfettamente in ogni suo dettaglio, in ogni sua piccola sfumatura, andare quasi a livello emotivo in quella che è la risposta reattiva dell'auto a quella che è l'esigenza del pilota. Arrivare a un centimetro di distanza dalla macchina da presa a delle velocità folli, senza la capacità di poter reagire è impossibile, quindi tutti devono essere reatti in uno shooting del genere. Al prossimo episodio Al prossimo episodio